Invece, sono tutti? Possiamo partire con il secondo pezzo del gruppo? Possiamo invitare i ballerini? Possiamo invitare i ballerini e le ballerine, no? Ma prima noi invitiamo nuovamente Abdel Sassero, Carlo e Danna Che così ci vanno, viene Così due parole su questo nuovo e meraviglioso pezzo che ci presentano Allora, adesso presentiamo, abbiamo detto, un altro pezzo Allora, questo pezzo si chiama mannequin Mannequin Manichini Manichini Ok? È un mix di Latin Assol La nostra nuova materia che stiamo cercando di insegnare ormai da due anni a questa parte E il connubio con le ragazze di Elsa Guerra della scuola In Young Che faranno il walking, ok? Bene, so che voi da casa mentre fate, mentre state facendo la minestra Metteteci dentro anche sto walking alla finestra All'aste All'aste, ecco voi infatti con un po' d'olio e aceto viene bene Condimento bene Quanto tempo che balliamo, Anna? Io quanto tempo? Sì, questo tradisce la tua anagrafa, stai attento a cosa risponde Infatti, è dal 2004 Dal 2004? E sei già bravo così? Come al solito, eh? Gliel'avevamo risparmiata prima ma non potevamo C'è suo padre lì? Sì, vabbè Il padre, combinazione, è anche un carissimo amico Senti Carlo, invece noi da quanti anni è che stiamo ballando e che stiamo vivendo questo mondo? Sono dieci che ho incontrato le danze caraibiche e sono praticamente sette che insegno Che bello, e quindi grande soddisfazione in questi anni Grande soddisfazione che ha creato questa creatura, io la chiamo, che è Onda Nueva e che raccoglie tutti questi ragazzi E che ricordiamo che è in Novara, quindi per tutti gli amici di Novara o quelli Dove si trova? Dove si trova? Dove si trova? Dove si trova? La sede? Sì La sede principale è a San Pietro Musezzo, che è una zona appena fuori industriale di Novara Sì Il locale si chiama Il Mojito Bene, bene, vedi, senti che conosco Però insegniamo anche in centro a Novara, dove c'è la caserma Ferrone, via Passalacqua e poi a Gagliate in via Achille Varzi Bene, allora, visto che poi vediamo ballare i ragazzi, ricordiamo ancora una volta a Decche, però domenica c'è questo Domenica sono tutti con noi, quindi faranno lo stage per serata E poi due show Due show Quindi saranno numerosi loro, quindi non perdete questa occasione Saranno con noi dove? A Globo, naturalmente No, perché saranno con noi A Bella è attribuita a Globo Ho capito, ho capito Faccio partire Certo, certo, no, no Va benissimo Allora, il titolo della canzone è alti? Mane Queen Mane Queen, per noi ragazzi di Onda Nueva F from Adams, Remix They call me mannequin You're looking real hard You come back again You come back again They call me mannequin I'm moving real slow Back it up again Like a mannequin I'ma break Get on top of this flow I'ma break Get on top of this flow Watch me Watch me Come to life Post 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 Grazie a tutti.